Clima elettorale sempre più infuocato a Macerata. Colpo di scena nel centrodestra. La coordinatrice provinciale di Forza Italia, Lorena Polidori, chiede con una lettera aperta le dimissioni della candidata a sindaco, Deborah Pantana. Sono evidenti i segni di scollamento nella coalizione attorno alla tua candidatura, scrive la Polidori. Ti invito a non impegnare oltre Forza Italia in questa situazione di isolamento della coalizione e di individuare insieme a tutti i partiti e le liste il candidato sindaco di Macerata come espressione unitaria. Alle dichiarazioni della Polidori si aggiunge la replica firmata dal coordinatore comunale di Forza Italia Sacchi, dal vice Bianchini, dal capogruppo in consiglio comunale Pistarelli e dal vice Luciani. Nessuna dichiarazione della Polidori apparsa sui giornali, tantomeno l'ultima, è mai stata confrontata con il partito. Da ben otto mesi non viene nemmeno convocato il coordinamento provinciale. Ci distracciamo pertanto da quanto affermato dalla Polidori ad esclusivo titolo personale, ribadendo il nostro consenso unitario nei confronti di Deborah Pantana e rammaricandoci del male che uscite pubbliche simili arrecano al nostro partito. Un segretario si legge nella replica che senza aver mai consultato il proprio partito rilascia dichiarazioni a titolo personale in contrasto con il partito medesimo e in un momento così delicato deve trarne le conseguenze, dimettendosi per manifeste in adeguatezza. Quella di Deborah Pantana, sottolineano nella nota i coordinatori maceratesi di Forza Italia, è una candidatura voluta da numerose liste civiche formate si intorno alla sua persona insieme ad associazioni cattoliche impegnate nel sociale che le riconoscono le caratteristiche giuste per opporsi al centro-sinistra.